di Grillo. Al Senato i pentastellati sospettano che esponenti del centrodestra si preparino ad appoggiare la proposta PD studiata apposta per sfavorire i Cinque Stelle. Inganna gli elettori con una scheda all'interno del quale ci potrebbe essere scritto il nome di un candidato più volte con un partito che lo sostiene, ma fondamentalmente voti sempre quel candidato. Alleanze nei collegi nominali sono uno scandalo che truffano l'elettore. I Cinque Stelle sbagliano al nostro nuovo gruppo Federazione di Centrodestra.